Basso profilo ma posizione chiara, Kevin Spacey attraverso il suo avvocato si è dichiarato non colpevole davanti ai giudici che lo accusano di molestie sessuali su un teenager. L'attore statunitense è stato formalmente incriminato per violenza sessuale e ora si trova in condizione di libertà su cauzione dopo una breve udienza a Nantucket nel Massachusetts. Durante l'udienza il divo di House of Cards non ha preso la parola, rischia fino a cinque anni di prigione e l'obbligo di registrarsi come molestatore sessuale. La prossima udienza è stata fissata per il 4 marzo 2019 ma Spacey non è stato chiesto di essere presente. L'attore infatti aveva chiesto al giudice di essere esonerato dall'apparire in tribunale perché la sua presenza avrebbe amplificato la pubblicità negativa già generata in relazione al caso.